E' importante la delibera provata all'unanimità dal Consiglio regionale sul cambio del nome di Negrà, richiesto dal Comune, in Negrà di Valpulicella. Sappiamo l'importanza di questo territorio per storia, cultura, economia, per cui veramente l'abbiamo votata all'unanimità perché è un segnale di vicinanza al territorio. Tutti conoscono la Marone, ma conoscono la Valpulicella, per cui l'importanza che diamo al Comune di Negrà, ma a tutta una zona che è uno dei fiori di occhiella della nostra regione. Per cui fieri di questo voto, sperando che adesso i cittadini lo confermino, perché è importante legarci a quello che è il nostro patrimonio storico, artistico, culturale e una delle posizioni migliori conosciute a livello internazionale. Il Consiglio regionale si è espresso all'unanimità con il giudizio di meritevolezza per la fusione dei comuni di Polesella e Frassinelle. Questo è un fatto molto importante per le comunità locali, ma può essere anche molto significativo per riprendere un ragionamento di riorganizzazione delle municipalità della provincia di Rovigo. Questo per garantire servizi efficienti e nuove opportunità ai cittadini. Grazie a tutti.